Gli eventi recenti ancora una volta hanno dimostrato l'importanza di una stretta collaborazione fra partner che condividono la stessa filosofia e condividono i valori di libertà e democrazia. Ecco perché ci aspettiamo che questo vertice dia un deciso contributo alla promozione di questi valori e al rafforzamento della comunità internazionale, d'ordine internazionale basati su certe regole. Vediamo le aspettative di questo vertice. Innanzitutto sull'Ucraina dobbiamo riconfermare la nostra politica su due pilastri, ossia sostegno politico ed economico al governo affinché si possa contribuire alla stabilizzazione del Paese e alla sua ripresa economica e mantenere dall'altra parte una pressione credibile sulla Russia per evitare che intervenga nelle questioni interne della Russia e a sostenere le forze separatiste. Noi vediamo quattro aree in cui l'azione dell'Ucraina deve essere portata avanti e intensificata. Primo, progredire sulle riforme costituzionali, il dialogo nazionale e la capacità amministrativa. Secondo, dobbiamo dimostrare al popolo ucraino che le riforme sono al loro beneficio, cioè aiutano a stabilizzare l'economia. La realizzazione del pacchetto di assistenza completo per un valore di 11 miliardi di euro da parte dell'Unione Europea è in corso. L'Ucraina ha già ricevuto una prima fetta della nostra assistenza macrofinanziaria. Con il primo esborso del contratto per la Costituzione dello Stato, recentemente l'Ucraina riceverà un miliardo e mezzo di euro. Poi l'Ucraina sta godendo di vantaggi di accesso al mercato offerti nell'ambito dell'accordo di libro scambio ampio e profondo omnicomprensivo. Rimaniamo disposti a firmare le restanti parti dell'accordo di associazione. Terzo, l'Ucraina, la sua sicurezza energetica e la sicurezza energetica dell'Unione Europea, che sono un tema molto importante. Siamo d'accordo che l'energia non deve essere utilizzata come un'arma politica. Questo vertice dovrebbe essere fermo e incoraggiare la Russia a mettere da parte queste armi. La Commissione europea è qui spezza una lancia a favore degli sforzi del commissario Oettinger. La Commissione fa tutto il possibile per agire in questa direzione. Un giusto accordo fra le parti, Russia e Ucraina, facilitato dalla Commissione, sul pagamento degli arretrati, il prezzo futuro del gas, la modernizzazione del sistema, si sta realizzando. Invito le parti a fare il passo finale. Sarà veramente importante per il clima generale nella regione.